ciao a tutti oggi prepareremo il panettone classico gli ingredienti che ci serviranno per la biga sono acqua lievito e farina diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lievito e l'acqua lo facciamo sciogliere per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina ed impastiamo per tre minuti a velocità spiga trasferiamolo in un contenitore e lasciamolo lievitare per circa otto ore trascorso il tempo di lievitazione della biga adesso procederemo a preparare il primo impasto per il primo impasto gli ingredienti sono acqua lievito di birra farina manitoba farina doppio zero tuorli e zucchero mettiamo all'interno del boccale il lievito e l'acqua e azioniamo il bimbi per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo adesso la biga i tuorli la farina di tipo doppio zero la farina manitoba e lo zucchero ed impastiamo per tre minuti a velocità spiga lasciamo lievitare nel boccale fino a quando il volume non sarà triplicato trascorso un'ora e trenta minuti circa l'impasto risulterà ben lievitato e adesso procederemo al secondo impasto gli ingredienti per il secondo impasto sono burro sale la scorza di un'arancia vanillina tuorli uova farina manitoba farina doppio zero zucchero miele uvetta scorzette di arancia candida aroma di panettone e aroma di mandorle andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero la farina la farina manitoba l'aroma di panettone la vanillina la scorzetta di un'arancia il sale l'aroma di mandorle il miele versiamo le uova i tuorli e impastiamo per sei minuti a velocità spiga a questo punto aggiungiamo il burro quindi azioniamo il bimbi per cinque minuti sempre a velocità spiga e dal foro del coperchio aggiungiamo il burro poco per volta adesso azioniamo il bimbi sempre per due minuti a velocità spiga e man mano dal foro del coperchio mettiamo l'uvetta e i candidi versiamo l'impasto in una ciotola infarinata copriamola con un canovaccio e lasciamola lievitare per almeno un'ora trascorso il tempo adesso trasferiremo il nostro impasto in uno stampo per panettone da un chilo una volta che abbiamo trasferito il panettone all'interno dello stampo facciamolo lievitare fino a quando non avrò raggiunto il bordo dello stampo in un luogo caldo asciutto possibilmente nel forno spento posizionato sulla griglia il nostro panettone è perfettamente lievitato mi raccomando non prendete il panettone dall'involucro ma direttamente alla griglia perché altrimenti toccandolo potrebbe sgonfiarsi adesso faremo delle piccole incisioni sulla superficie con un coltello all'interno dell'incisione metteremo dei piccoli pezzettini di burro andiamo a cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi nella parte bassa del forno per circa 45 minuti circa mettendo un foglio di carta forno sulla superficie il panettone è cotto lasciamolo raffreddare capovolto in sospensione panettone classico grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti